Come posare un parquet flottante. Livello di difficoltà, un martello. Resistente e piacevole da vivere, il parquet flottante ad incastro è facilissimo da posare. Abbiamo bisogno di parquet flottante ad incastro, sotto pavimento isolante, nastro adesivo in alluminio. Dobbiamo avere a portata di mano matita, metro, squadra, cunei di dilatazione da 10 mm, tiralame, blocco di battuta, martello, sega ad orso, seghetto alternativo, trapano avvitatore, pistola per silicone, dima per tagli angolati o troncatrice. Prevedere l'uso di ginocchiere. Per un migliore effetto visivo e per limitare l'effetto di dilatazione, si raccomanda di posizionare i listoni parallelamente al lato più lungo della stanza. Ma si possono anche posare nel senso in cui la luce entra dalle finestre. Se la condizione dei muri lo consente, togliamo gli zoccolini. Possiamo conservare il vecchio rivestimento se il pavimento è in buono stato e ben in piano. Il perché può essere posato sulle piastrelle o su un pavimento in PVC. Per la moquette bisogna fare riferimento alle indicazioni del produttore. Volendo rimuovere il vecchio rivestimento, stacchiamolo e assicuriamoci che il fondo sia pulito, altrimenti passiamo all'aspirapolvere o laviamo. Se rimangono dei residui di colla, usiamo un solvente. Verifichiamo che il fondo sia in piano e, se necessario, levighiamo. Infine, verifichiamo che il supporto sia ben asciutto. Apriamo le confezioni 24 ore prima della posa per fare in modo che il tasso igrometrico dei listoni si adatti a quello della stanza in cui saranno posati. I listoni devono essere lasciati a terra ben in piano. Togliamo le porte dai cardini per lavorare senza intralcio e per tagliare la parte inferiore degli stipiti. Posizioniamo un listone rovesciato su un pezzo di sottopavimento per avere la giusta misura e accorciamo gli stipiti appoggiandoci sul listone stesso. Quindi togliamo il pezzo tagliato. Il sottopavimento isolante permette di ridurre il rumore di calpestio sul pavimento. Stendiamo il sottopavimento in rotolo in modo che l'altezza sia perpendicolare ai listoni di parquet. Usiamo il nastro adesivo in alluminio per unire i fogli. Se è presente il riscaldamento a pavimento, è necessario posare una pellicola di polietilene prima del sottopavimento. Stessa cosa vale per un pavimento al piano terreno se manca il vespaio aerato. Posiamo i listoni uno dopo l'altro su tutta la lunghezza del muro senza fissarli. Per ragioni di stabilità, l'ultimo listone deve misurare almeno 40 cm. Se non rimane un listone così lungo, tagliamo il primo listone dalla parte della linguetta per spostare tutta la fila. Se invece si ha uno spazio maggiore di 40 cm, si può tagliare solo la linguetta del primo listone. Per ottenere uno spazio di dilatazione lungo i muri della stanza, mettiamo dei piccoli cunei da 10 mm tutti intorno. Posizioniamo il primo listone con il lato della linguetta dalla parte del muro. La linguetta di questa prima fila viene tagliata per lasciare lo spazio di dilatazione. Inseriamo la linguetta del listone seguente nella scanalatura alla fine del primo listone con un'angolazione di 30 gradi. Abbassiamo lentamente il listone per serrare l'incastro e continuiamo così anche con i listoni seguenti, senza dimenticare di mettere i cunei di dilatazione tutti intorno al muro. Quando arriviamo contro la parete opposta per trovare la linea di taglio, avviciniamo l'ultimo listone al precedente, linguetta contro linguetta. Con la squadra troviamo e tracciamo la linea di taglio usando come riferimento il listone precedente. Tagliamo e posiamo come in precedenza. Cominciamo la seconda fila con il pezzo di listone rimasto da quello tagliato e posizioniamolo alla fine della prima. Da una fila all'altra, i giunti all'inizio del listone devono essere distanti tra loro di almeno due volte l'altezza di un listone. Inseriamo il listone con un'angolazione di 30 gradi e, ad incastro avvenuto, spingiamo piano verso il basso fino al suolo per chiudere la giunzione. Il listone è incastrato a quello della prima fila, ma non è collegato a quello precedente. Appoggiamo un blocco di battuta sull'angolo e colpiamolo leggermente con un martello per incastrarlo al precedente. Vicino al muro usiamo il tiralame per incastrare bene l'ultimo listone. Avviciniamo il listone contro il tubo nella posizione che occuperà una volta incastrato al precedente. Tracciamo il diametro del tubo aggiungendo qualche millimetro per la dilatazione. Mettiamo il cuneo di dilatazione da 10 mm contro il muro e misuriamo la profondità per riportarla sul listone. Effettuiamo il taglio circolare con una mecchia da legno, quindi terminiamo il taglio con il seghetto alternativo. Quando il listone di parchè tagliato è in posizione, si può aggiungere una rondella passatubo per completare il lavoro. Per l'ultima fila o in presenza di una sporgenza, bisogna tagliare i listoni anche in larghezza. Allineiamo un listone alla fila precedente, quindi posiamoci sopra un altro listone e facciamolo scorrere verso il muro finché non tocca i cunei di dilatazione. Tracciamo il taglio seguendo il bordo del listone. Aspettiamo almeno un'ora per togliere tutti i cunei di dilatazione lungo il perimetro. Con un taglierino eliminiamo l'eccedenza del sottopavimento e della pellicola in polietilene ai bordi del pavimento. Per una finitura di qualità tagliamo gli zoccolini posti in verticale all'interno di una dima per tagli angolati abbastanza alta, o meglio ancora, usiamo una troncatrice. Gli zoccolini vengono fissati con il silicone lasciando un piccolo spazio tra la superficie del nuovo pavimento in parquet e lo zoccolino per consentire la dilatazione. Se i vecchi zoccolini sono stati conservati, lo spazio di dilatazione periferico può essere mascherato da un profilo a quarto di tondo fissato nell'angolo. Posare la soglia della porta è indispensabile per collegare due rivestimenti diversi. Bisogna anche qui rispettare lo spazio di dilatazione. La colla va stesa sulla parte appoggiata sull'altro supporto. La porta, una volta chiusa, deve sfiorare la soglia. Rimettiamo le porte al loro posto. Verifichiamo che si aprano e chiudano senza problemi. Se necessario, possiamo piallarle leggermente nella parte inferiore. Un pavimento con moltissimi vantaggi, facile da posare e piacevole da vivere.